anche se non è natale noi oggi festeggiamo natale lo stesso e questo è solo l'antipasto pronti per la cena siamo solo in sei purtroppo due nostri amici non vengono però buon natale ebbene sì finalmente ci siamo riusciti ad organizzare dato che abbiamo tutti i risultati finalmente che mancava anche il mio ma è negativo ho avuto una bellissima sorpresa perché io la mattina sono andata a lavorare al ritorno a casa ho detto dai Karen pronto cambiati cambiati che qui già avevano preparato tutta la tavolina carina per gli aperitivi intanto per parlare un po' e quindi ecco sorpresa appena sono andata a casa dopo il lavoro finalmente ecco abbiamo fatto questa cena di Natale ci siamo mangiati i cappelletti buongiorno ragazzi un'altra giornata day off oggi andiamo a fare un giro un po' lontanina però non importa prendiamo l'autobus quindi state con me buongiorno ragazzi Grazie, ha un buon giorno! Ciao! Sono venuta a fare un giro, non cercavo niente in particolare, ma mi è andato l'occhio sui miei cereali preferiti, che li ho quasi finiti, quindi ne approfitto, almeno compro un mega pacco. Ok, grazie! Grazie! Adesso, non molto lontano da Walmart, c'è un altro negozio dove volevo passare e ci sono già stata, so cosa prendere, seguite ancora questi video con me! Ed eccomi qua, Hobby Lobby, dato che sono a Burbank, perché dove sono andata a questo Walmart è a Burbank, Da molto lontano c'è quest'altro negozio, bellissimo negozio, tutte cose carine per casa, quindi entriamo e facciamo un giro! Quante cosette carine ci sono qua, per tutti i gusti! Ok, ho trovato quello che cercavo e il pensierino per Marco e Veronica è fatto, adesso spero solo di vederli, così io li do per regalo per Natale! Adesso facciamo fila alla cassa! Regalo comprato! Grazie! Ok ragazzi, io sono andata a casa, adesso vado a dormire perché domani esco con Marco e Veronica! Ok, regali per Marco e Veronica incartati, adesso li aspettiamo! Da dove arriveranno? Da qua? Da qua? Da qua? O da qua? Eccoli, sono arrivati da qua! Chi ha indovinato? Ha ha! Ambelli! Stiamo andando a Long Beach in un posto che si chiama Nepal! Ci troviamo qua a Corso Napoli e abbiamo un parcheggiatore abusivo! Qui ragazzi è troppo bello! Case decoratissime dappertutto, in tutti gli angoli, in tutte le finestre, in tutte le porte, in tutti i giardini, molto molto bello! Dopo ci ripasserò, spero di notte, per far vedere qui tutto com'è l'illuminazione, ma sono veramente, veramente bellissime queste case! Ma siamo a Napoli o siamo a Venezia? Sono un po' confusa ragazzi, com'è? Purtroppo si è fatto tardi, è buio, come vedete, quindi abbiamo deciso di tornare a casa! Ed eccomi a casa! Ho appena salutato Marco e Veronica, ci siamo scambiati i regali e adesso vi faccio vedere cosa mi hanno regalato loro! Bellissima giornata, sono stata benissimo, Naples è bellissima, i canali sono bellissimi, le ville e le case sono bellissime, a tra poco! Ed eccomi qua! Allora, come ho già detto a loro, il mio regalo gli è piaciuto tantissimo e questo è il mio! Adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro e... Tadam! Un braccialettino bellissimo e c'è anche un cuore qua così, ma la cosa più bella è questa, il bicchierino di Starbucks, che qui c'è scritto caffè. Mamma mia quanto è carino! E io adesso lo mettiamo... Allora... Ok, eccolo qua! Molto ma molto carina! Mi piace un sacco, questo è un bellissimo regalo! Grazie mille Marco e Veronica, mi piace tantissimo, lo porterò sempre con me! Ma a voi, se sembra semplissima, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina così sapete sempre quando uscirà nel prossimo video! Pollicinato se vi è piaciuto, commentate qui sotto! Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live! Un bacione da Los Angeles! Canale al balanzione! No, Lepita.